Qui all'Infocom China siamo orgogliosi di presentare una cooperazione, una partnership tecnologica che ha portato a proporre per la prima volta un proiettore laser puro estremamente compatto. Guardando lo scenario di prodotti simili vedo che sotto dimensioni enormi, 40-50 kg di peso non c'è ancora nulla. Noi siamo riusciti in una dimensione molto compatta e leggera a realizzare un proiettore a puro laser risolvendo in maniera netta il principale problema che la tecnologia laser portava con sé, chiamato tecnicamente Speckle. Questo problema è stato completamente risolto grazie alla collaborazione con un'università cinese che ha dato vita a un'azienda che si chiama Vlasertech che ha l'obiettivo proprio di sviluppare questa soluzione. La partnership tecnologica prevede il proiettore dal punto di vista dei percorsi ottici, del processamento realizzato da Sim2 utilizzando la piattaforma migliore che abbiamo della linea Superlumis e il sistema di illuminamento sviluppato con questa partnership. Realizzando un proiettore che su dimensioni contenute con un peso di 13 kg arriva a luminosità fino a 10.000 lumen con una colorimetria enormemente superiore a quelle tradizionali date dalle lampade e quindi con prestazioni per le applicazioni di cinema in casa estremamente alte. Abbiamo annunciato in conferenza stampa qui a Pechino questa alleanza, questa partnership, abbiamo presentato per la prima volta nel mondo il prodotto funzionante che siamo confidenti di introdurre nel mercato prima di fine anno. Essendo un'azienda italiana che progetta e produce in Italia non siamo certo l'azienda che può competere con i prezzi cinesi, però ci siamo ritagliati uno spazio nel mercato e una reputazione proprio su prodotti estremamente innovativi che hanno prestazioni altissime con l'obiettivo di riportare il cinema vero, riportarlo nelle case dei nostri clienti. Questa è una collaborazione tecnologica, quindi l'Università e questa azienda creata di Lasertec ha indubbiamente trovato soluzioni estremamente innovative ed efficaci sull'uso del proiettore dell'illuminazione a laser, a laser puro, non ibrido, quindi senza ruote con fosfoli, quindi puro laser rosso-verde-blu, sicuramente soluzioni tra le più avanzate ed efficaci nel mondo oggi. Abbiamo utilizzato queste soluzioni nei nostri proiettori e quindi ci consentirà di proporre nel mercato mondiale, nelle 55 nazioni dove Sim2 attualmente vende, una soluzione estremamente innovativa per il cinema in casa ma che ci aprirà le porte anche per applicazioni professionali dove compattezza, luminosità e lunga vita del laser ci consentiranno di utilizzare. Grazie.